Ragazzuoli, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi vi propongo un video e un gioco diverso dal solito. Per la prima volta del mio canale, ragazzi, porto Call of Duty Modern Warfare, che peraltro cito proprio qualche giorno fa, e ve lo porto, ragazzi, con una modalità molto interessante. Stiamo parlando del RTX, ragazzi, il Ray Tracing. L'RTX, ragazzi, è una funzione che si può abilitare solamente su alcuni giochi, ed è una funzione che si può abilitare se, ovviamente, disponete di una scheda video Nvidia RTX. Come in questo caso, la mia scheda video è una 2080 dell'Nvidia, e ho la possibilità di giocare e giochi con l'RTX. Sempre che, ovviamente, i giochi permettono di abilitare questa funzione. Proprio qualche giorno fa, come ho detto, è uscito Call of Duty Modern Warfare, ed è possibile giocare COD con l'RTX attivo. Ragazzi, io l'ho provato ed è quello che vi dimostrerò oggi nel video, perché vi assicuro, ragazzi, che COD con l'RTX attivo è un qualcosa di devastante. Perché chi non dovesse sapere cosa sia l'RTX, ragazzi, ve lo spiego molto brevemente, perché è molto, molto semplice. Fondamentalmente, ragazzi, l'RTX va a fare una vera e propria simulazione di luci, di ombre, di riflessi, e di qualsiasi minimo dettaglio del gioco, rendendolo praticamente come se fosse una vita reale. Quindi, le ombre, la pioggia, ogni minimo dettaglio, con l'RTX abilitato, lo vedete in una maniera devastante, ragazzi. L'RTX è un qualcosa di spettacolare, io spero che arrivi prima o poi su tutti quanti i giochi, perché è davvero una bestia. Quindi, ragazzi, ora, godetevi questo video, trovate il link in descrizione per avere maggiori informazioni, e godetevi questo video, ragazzi. Ah, ragazzi, io non ho mai giocato a COD, quindi fatemi vedere come... Vabbè, esperto, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, esperto, va bene. La nostra guerra non è per la nostra fede, combattiamo per cacciare tutte le potenze straniere dal nostro territorio. Noi siamo Alcatala, siamo gli assassini. Beh, questa è la campagna. Andiamo in guerra senza la minima pietà. È il solo modo in cui vivono e muoiono i veri soldati. No, minchia. Colonnello, abbiamo un problema. Siamo operativi, è troppo tardi. Non finché lo dico io. È giusta me. Voglio vedere una cosa, voglio vedere una cosa. Fatemi vedere un attimo senza l'RTX, ragazzi, sono troppo curiosa. Allora, voglio vedere. Dov'è l'RTX? L'RTX, se io metto no, applica, vediamo com'è. Ok. Se l'attivo. Forse non si vede qua perché... Vediamo. No, no, come no? Porca troia. Ottimo. Due mercenari. A domani. A terra, via libera. Ricevuto. Per forza. Appostarsi sul crinale e controllare la zona. Vado a rega, guarda... No, vabbè, guarda che figata è il cielo. No, voglio andare di lì. Che palla. Tu sei il localizzatore monoculare. Che è? Il binocolo? Ok. Dove ce ne sono tre? Chi ti attacca aereo? Ecco 3-1, autorizza l'attacco aereo. Blue Viking 5, qui Ecco 3-1. Truppe in campo aperto. Cancello sud. Attacco autorizzato. Ma spacca tutto. Ricevuto 3-1. Bersaglio acquisito. Cinque secondi all'attacco. Cinque secondi. Ho voglia di fare a questa, ragazzi. A domani. Madonna, rega, che grafica. Porca miseria. 1-1, bersaglio colpito. Viking in rientro. Buona caccia. Grazie Viking, adesso facciamo da soli. Aiuto, vi prego, aiuto. Devi stare giù a terra. Grazie. Vado, rega, ma è una grafica pazzesca. Finiamo. Mio Dio. Sono con le reti x attiva, ragazzi. Guarda di dettagli, quante sono belli. Troppo bello. A domani. Sanno della nostra presenza, ragazzi. Eh, direi. Direi che lo sanno. Abbiamo spaccato me in mezza base. Devi stare giù a terra in silenzio. Ben fatto, Sia. In marcia. Un nemico assoluto. A domani, a domani, a domani. Tutti giù a terra. Eccolo uno. Sono venti metri. In marcia. Ricevuto. Cambio caricatore. Però, ragazzi, è bellissimo. Cioè, è fluidissimo. Ha una grafica spettacolare. La cappa. Adesso non mi interessa. L'ho già la cappa. Ok, a domani. Ok. Quindi noi devo andare a prendere il gas. A quanto ho capito. Vabbè, raga, ma è super realistica sto gioco. Madonna di Dio. A domani. No, ti prego, amore. Ti prego. È a terra. Eh, lo so che è a terra. Per forza. A domani. 3-1 a Watcher. Barco fa soldato degli Spetsnaz. Abbiamo ucciso militari russi. Dobbiamo pilarcela. Negativo. Per il comando la missione è prioritaria. Non c'è scelta. Ah, perché non possiamo uccidere i russi? Non ho capito. 3-1, chiudo. Trova che sia il gas. Noi prepariamo il camion per l'uscita. Sono sicura che mo' scoppa tutto. Vediamo. Bingo. Gas identificato. Madonna, che pensate a queste cose è... Caricate e rientrate alla base. A domani. A tutte le unità siamo in movimento verso il punto d'incontro. Massima allerta. Vabbè, ora si sparerà dalle macchine, sicuro. Adunata al punto d'incontro per l'uscita. Per forza. È il giusto a me. Ok, ci hanno fatto il culo. Ora moriranno tutti. No, i miei amici. No, tesoro. Che cosa cazzo vuol dire? Chi cazzo sono? Ma chi cazzo ti conosce? Ah, hanno fatto una cosa che non dovevano fare? Ecco 3-1 a Watcher. Alex, cosa succede? Un attentato. Diversi marini uccisi. Gas rubato. Venite subito a prenderci. Ricevuto. Rilevo parecchie forze russe dirette verso di voi. Tenete duro. Veniamo a prenderci. Dove sei? Al lavoro. Ho un problema. Russi? Le voci corrono. Le armi chimiche sono in mano ai terroristi. Non so dove siano Parigi e New York. Londra. Quando il briefing? Appena fatto. Ahia! Londra. Londra. Massima allerta terroristica. Possibili assalitori molti. Camicaggio forse peggio. Abbiamo cecchini in posizione. No, negativo. Non deve scoppiare il panico. Terroristi sono d'accordo. Garrick, non trasformare Londra in una zona di guerra. Chiaro? Sì, capito. Chiudo. Sembra che siamo da soli. Andrà bene. Diamoci da fare, ok? Ok. It's time now, secure.